Il Video Festival d'Imperia è cresciuto fino a diventare un punto di riferimento internazionale per gli appassionati del settore. Lo testimoniano le adesioni record alla tredicesima edizione, 2107 i film in gara in rappresentanza di 102 nazioni. Eppure l'edizione di quest'anno potrà andare in porto solo grazie al contributo che i cittadini stanno elargendo tramite la raccolta fondi promossa da Cristina Tealdi e portata avanti su Facebook e presso un'edicola di Via Cascione. Il contributo che il Comune ha sempre stanziato, infatti, quest'anno non è stato ancora deliberato. La cosa ha provocato non pochi problemi, naturalmente, ma il direttore artistico Fiorenzo Runco e i suoi collaboratori non hanno mollato. Sia il presidente del Video Festival, l'attore De Remo Girone, che il direttore artistico sono stati chiamati alla direzione di una nuova manifestazione di cinema che andrà in scena nella città di Vakui, nel Zerbaijan, a settembre, il premio Zoroastro Festival del Cinema Italo a Zero. Si tratta in sostanza di un gemellaggio nel quale la realtà imperiese porterà le sue esperienze e competenze.